Quando vuoi lavorare con questa tecnica è importante che tu nel colloquio non solo chiarisci bene gli obiettivi del cliente il più possibile, ma chiarisci già nel colloquio come questa tecnica funziona. Cioè tu già gli dici che quando poi lui sarà sdraiato o anche seduto se preferisci, le sue mani saranno aperte, si riempiranno dello stress, dei problemi eccetera e poi gli farà cadere quando sarà arrivato il momento giusto. Quindi lui, il cliente, durante il colloquio già si immagina come funzionerà. Ovviamente non è per forza al 100% necessario, puoi anche un po' sorprenderlo di risdraiarsi oppure di chiudere gli occhi e poi gli dici metti le mani così e fai tutta la cosa che devi fare. Ma diciamo, secondo me, per la mia esperienza, è meglio dirlo prima, così la persona già un po' se lo immagina. Già, anche se magari non è molto portata all'ipnosi, si può immaginare che è un'idea che funziona, l'idea di raccogliere tutto il dolore e poi buttarlo. Quindi, in qualche modo, insomma, il suo subconscio si prepara. Se è portato o non è portato all'ipnosi, comunque già un po' se lo immagina e quindi poi, diciamo, funziona anche un po' meglio. È vero che questa è comunque una tecnica che funziona bene anche per chi non sa ben definire i suoi obiettivi, quindi clienti che non sanno ancora bene dove andare, cosa devono fare, cosa devono cambiare la loro vita, per clienti che non sanno ancora bene definire da dove arrivano i loro problemi, perché poi quando si liberano arriva un sollievo che li aiuta a vedere meglio le cose.